Presidente, il marchio Italia piace sempre di più, come ha detto per lo sponsor tecnico c'è quasi un'asta, c'è stata un'asta per lo sponsor di maglia, ma oggi non si sono fatte cifre, quanto vale oggi l'Ital Rugby? Bene, vale il doppio di quanto valeva prima, questo è un discorso importante, adesso facciamo stare le cifre, comunque c'è stata anche qua un'asta per cercare, naturalmente noi abbiamo ritenuto giusto, che visto gli ottimi rapporti che abbiamo avuto con Cari Parma, visto che abbiamo un po' gli stessi valori, ma anche in grande crescita, noi stiamo crescendo, perciò era giusto che ci incontrassimo, poi abbiamo pensato che stavamo benassati di andare avanti altri 4 anni, questo è importante, è importante anche perché la nostra disciplina dimostra anche quella serietà che al di fuori dei rapporti commerciali praticamente si tiene ancora presente quelli che sono i rapporti umani.